Bellezza, coesione e solidarietà sono questi tre elementi fondanti di solidarte. La sta benefica di quadri organizzata da Rotary Club di Fano, il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas Diocesana per l'assistenza dei 300 profughi ucraini ospitati nel nostro territorio. Le opere che verranno presentate sono state realizzate dagli artisti che hanno partecipato all'estemporanea di pittura che si è svolta lo scorso settembre a Pincio a cura dell'associazione Fortunarte. A loro poi si sono aggiunti altri artisti e collezionisti privati che si sono dimostrati sin da subito sensibili all'iniziativa. Solidarte è appunto un'asta di quadri che però è preceduta dalla mostra delle opere che saranno poi messe all'asta e si svolgerà la mostra da venerdì a domenica presso la chiesa di Sant'Arcangelo e l'asta avere proprio invece domenica 12 alle ore 17. Proprio per agevolare al massimo la riuscita dell'evento e il raggiungimento della sua finalità tutti gli artisti si sono dimostrati sensibili e hanno consentito a che la base d'asta sia di gran lunga inferiore rispetto a quelli che sono le loro quotazioni di mercato. Avete già messo a disposizione anche un opuscolo che può essere consultato? Sì, è disponibile, è consultabile sul nostro sito internet, è un catalogo online che descrive le opere che sono in asta. È un classico catalogo d'asta quindi è stato strutturato con una introduzione che spiega la finalità di questa iniziativa. Poi per ogni artista e per ogni opera c'è la foto, dei sintetici dati tecnici sull'opera quindi il titolo, l'anno, le dimensioni note, si hanno fatto mostre, si sono pubblicate e chiude la scheda del catalogo il curriculum artistico di ogni singolo artista. L'invito per tutti è poter visionare le opere anche dal vivo e negli orari e nei giorni che troverete appunto nel sito più gente c'è e più riusciamo a portare a casa questo risultato che è un risultato che secondo me è fondamentale perché poggia su due grossi pilastri che è la cultura perché arte è cultura e anche sulla solidarietà, quindi solidarte.